Ma anche se la ridistribuzione fosse funzionata, sono numeri risori rispetto alle persone comunque che sono arrivate, perché spesso quando si sentono i dati si parla solamente di quelli che sono rimasti all'interno del sistema. Noi abbiamo anche tutti quelli che sono fuggiti dal sistema, che non sono andati nei paesi del nord, perché abbiamo visto insomma in questi anni treni tornare da altri paesi confinanti con il nostro, ma sono finiti nelle mani della criminalità organizzata, perché uno dei grandi problemi, e anche questo io lo vedo nella mia città, ma penso che si veda in qualunque grande città, comunque chiederle lemosina in giro queste persone, oppure finire nella rete dello spaccio. Io ricordo sempre nella mia città, proprio li hanno trovati, hanno, non so se chi ci ascolta lo sanno, i braccialetti quando arrivano ai centri smistamento, noi abbiamo un centro smistamento, un hub a Bologna, per cui vuol dire che c'è una rete di criminalità che li prende immediatamente appena arrivati, perché in questo sistema di prima accoglienza, definiamolo così, rimangono circa due settimane. Il problema però è che dietro a tutto questo c'è qualcuno che ci mangia. Finché noi non andiamo a colpire, e quello che io mi domando e domando sempre, è perché il governo non intervenga su quei prefetti che permettono situazioni come Cona, o altre situazioni che abbiamo visto in Italia, e continuano a far vincere. alle stesse cooperative, le cooperative poi che escono negli scandali, tutti i bandi cooperative che tengono queste persone magari in strutture enormi, che mangiano un mare di soldi, perché più o meno ci viene a costare in quello che è l'accoglienza, i cassa, che è subito dopo il centro smistamento, 45 euro al giorno, ognuna di queste persone, sono due, due, cinque, sono i pocket, i soldi, quelli che gli diamo direttamente, finiscono in tutta la gestione, per cui da vestire, da mangiare, della struttura. Fin quando non si va a agire lì, però diventa un problema, continueranno ad arrivare persone, gli altri stati non le vogliono prendere, perché noi riconosciamo degli status che per gli altri stati europei non esistono, per gli altri sono clandestini, per cui non gli accetteranno mai quello che noi definiamo migrante economico, che poi ci sarebbe da discutere il fatto che noi non rimpatriamo e prendiamo anche le persone dal Marocco. Il Marocco è un'economia che va meglio della nostra. E noi non riusciamo a rimpatriare le persone che qua delinquono del Marocco quando quel Marocco viene di accordo, c'è un'interesse maggiore. Le chiedo ancora una cosa, però mi pare che almeno da un punto di vista di annunci c'è un provvedimento firmato dal capo del Viminale Minniti che alcuni dei problemi che il Paese ha vissuto in questi ultimi tempi si cercano di fronteggiare. Penso per esempio al riconoscimento per avere lo status di rifugiato per accorciare sensibilmente i tempi. Oggi tra i due o tre anni tra i ricorsi ci sono, invece si vuole togliere un grado di giudizio. Penso ai rimpatri che sono anche contemplati. Penso all'accoglienza diffusa. Cioè mettiamone pochi in tutti i comuni italiani in modo da evitare quelle situazioni come magari si prospetta adesso alla periferia di Roma a Massimina. C'è una volontà di fronteggiare i problemi che avete evidenziato o no? Però voglio dire, quello di metterne nei piccoli Paesi la distribuzione più diffusa, non in grandi strutture, oltre che nelle grandi strutture ce l'ha messa la Prefettura d'accordo con le cooperative, non è che ci sono finiti per caso. Però è una presa in giro, perché se noi non fermiamo in qualche modo gli sbarchi, sono due, ad esempio nella città metropolitana, e due per mille, in altre 2,5, ma andranno aumentando. È solamente un modo di dire, oggi te ne metto due, domani te ne aggiungo un altro, invece che metterte nei 20 tutti assieme. Perché la gente è proprio terrorizzata dal fatto che quando un Paese viene deciso di aprire all'interno un centro di accoglienza, partono che sono dieci, finiscono che sono... Cioè gli dici, c'è un numero fissato, poi questo numero si amplifica.